Salve a tutti cari attivisti, questo messaggio è rivolto ai professionisti del web. Ci rivolgiamo a chi opera in internet nel contrastare l'informazione falsa e menzogniera di televisione e giornali. Stiamo studiando un software finalizzato alla creazione di un sistema partecipativo di conversazione costruttiva, in grado di coinvolgere un gran numero di attivisti e di gente comune, affinché discutano e risolvano i problemi di cui soffre la nostra società. Questo messaggio dai contenuti tecnici, è rivolto in particolar modo a tutti i professionisti che operano nel web. Blogger, webmaster, sviluppatori di siti internet, gestori di comunità online, e attivisti che abbiano dimestichezza con le metodologie per divulgare l'informazione in rete. Stiamo progettando un network di siti web dedicati alla discussione democratica, un forum di discussione che a differenza di quanto siamo abituati, non rimarrà su un solo sito ma sarà condiviso tra i siti di tutti gli aderenti all'iniziativa, per mezzo di un software che tecnicamente permetterà di tenere sincronizzate le discussioni sui siti del circuito. I meccanismi che regoleranno questo spazio di discussione virtuale, saranno ispirati alla democrazia diretta, i moderatori e censori, non potranno essere nominati ma saranno gli stessi iscritti in maniera autonoma a gestire l'attività formistica con metodi democratici e partecipativi. Un qualsiasi argomento che verrà avviato su un sito web aderente al circuito, in automatico si propagherà in tutti gli altri siti e le conversazioni rimarranno sincronizzate. Chi interessato dovrà solamente procurarsi un servizio di hosting, il software saremo noi a realizzarlo, in maniera open source, occupandoci anche dell'installazione. Questa implementazione dell'uso di internet, permetterebbe una grande diffusione dell'attività informativa degli attivisti, chi opera nel web, potrà in questo modo avere grande visibilità. Per mezzo di questa rete, gli attivisti potranno operare nel web senza rischiare che il proprio account venga cancellato come spesso avviene nei social network, gli aderenti all'iniziativa, saranno realmente proprietari del sito che gestiscono, essendo questo collocato su un proprio servizio di hosting, chi vorrà potrà aderire a circuiti pubblicitari, e ripagarsi per intero il tempo speso nello svolgere la propria attività in veste di professionista. La partecipazione a questa iniziativa, non richiede il pagamento di nessuna quota, noi ci agoperiamo a titolo gratuito, per contrastare la cosiddetta macchina del fango, messa in atto dai politici asserviti alla casta, per arroccarsi dentro le istituzioni e non cedere ai cittadini il potere. Puntiamo a creare un network formato da un centinaio di siti web, un algoritmo da noi messo a punto, eviterà che i motori di ricerca penalizzino i contenuti duplicati su più siti. Il nostro progetto punta a creare un sistema di informazione, che a differenza di televisione e giornali, non è passiva, i cittadini potranno intervenire ed esprimere la propria opinione su fatti e proposte. Questo sistema sarà lo spauracchio per chi punta a detenere il monopolio dell'informazione. Grazie.